C'è una cosa che alleggia su Genova e che non si parla, che secondo me su Smart City ha un'importanza decisiva. Cosa succede in Finmeccanica? Scusate, lui ha detto, sono molto d'accordo, Finmeccanica investe il 16% in ricerca, complesso del gruppo ed è una realtà di grande livello. Noi a Genova siamo stati capitale delle partecipazioni statali quando le partecipazioni statali sono state la base dello sviluppo quantitativo del paese. Facevamo l'acciaio che diventava frigoriferi e automobili nel nord-ovest. Adesso se lo sviluppo del paese è lo sviluppo smart, è lo sviluppo intelligente, è lo sviluppo tra l'altro della ricerca e dell'innovazione, beh, insomma, la presenza pubblica dell'industria si giustifica solo se è trainante rispetto a queste cose. E allora, se lo Smart City è la nostra strategia, l'uscita, se Finmeccanica esce dalla logistica, dai sistemi di mobilità intelligente e dall'energia, è un colpo alla strategia, non solo a Genova, ma alla strategia smart del paese. Grazie.